Buonasera, buonasera a tutti, ciao a tutti, in diretta per un aggiornamento qui dal mio ufficio di Alba, sono appena arrivato da un pomeriggio in cui ho voluto anche nel mio ruolo di commissario all'alluvione verificare alcune situazioni sulle province che erano state colpite dal 2-3 ottobre e ora sono arrivato qua ad Alba e vi saluto nell'attesa che vi connettiate a questa diretta Facebook che serve come era promessa e era impegno per dare un aggiornamento importante credo perché è l'aggiornamento settimanale del venerdì sullo stato di salute della nostra regione e l'aggiornamento proprio sul Covid. Partiamo per ordine, oggi è venerdì e oggi abbiamo ottenuto l'ufficializzazione di quei dati che per la verità arrivano già nella notte tra mercoledì e giovedì e che sono il monitoraggio, che è questo che io qua davanti lo vedete, monitoraggio fase 2, questo è il report settimanale ed è il report completo numero 29 validato dal Ministero. Questo significa che il Ministero ci dice quello che è lo stato di salute della nostra regione, quello che è la tenuta dei sistemi sanitari e da questo report che dipende il colore, il colore che ha la nostra regione. Voi sapete che oggi noi siamo una regione arancione, eravamo regione rossa la scorsa settimana, venerdì la settimana scorsa siamo diventati regione arancione e poi nella notte di venerdì scorso c'è stata l'ordinanza del Ministro della Salute che ci ha messo in zona arancione appunto con tutti gli effetti della zona arancione che poi da domenica scorsa sono diventati operativi. Ebbene la prima notizia che credo sia importante sia condividere con voi i dati di questo report che continuano a confermare una situazione positiva per quanto riguarda l'andamento della fase 2, cioè di questo momento di rientro della fase 2 che sta a testimoniare come il virus, la circolazione del virus stia progressivamente diminuendo all'interno della nostra regione. Se diminuisce da una parte la progressione del virus dall'altra parte stanno diminuendo anche la tensione che c'è sui posti letto e la tensione che c'è nei nostri ospedali. Allora i primi dati che voglio condividere con voi sono innanzitutto questo famoso RT, l'RT ormai lo guardiamo in televisione, l'RT noi lo vogliamo chiamare per comprensione migliore, una specie di contachilometri che ci dice quanto viaggia il virus. Ebbene l'RT della scorsa settimana se voi lo ricordate era un RT che era sceso sotto l'1, eravamo 0,9. Oggi l'RT della nostra regione, lo voglio leggere con voi, è 0,76 e l'RT puntuale 0,72, ma quello medio, cioè quello sulla quale si fa riferimento per decidere il colore di una regione è 0,76. Quando si è sotto l'1 vuol dire che si scende di scenario, noi adesso siamo in uno scenario di rischio moderato, abbiamo i numeri per capirci da zona gialla, quindi abbiamo quei numeri che ci permetteranno la settimana prossima di passare di colore. Il meccanismo è molto chiaro, quando uno ha i numeri per passare di colore deve tenerli per 15 giorni, noi venerdì scorso avevamo già i numeri da zona gialla, oggi li confermiamo, se venerdì prossimo confermeremo i numeri della zona gialla, noi saremo zona gialla a tutti gli effetti da domenica 13 dicembre, con i cambiamenti che ci sono naturalmente nelle zone gialle, in particolare anche per quanto riguarda nuove aperture, per quanto concerne i bar, per quanto concerne i ristoranti, sempre naturalmente limitati alle ore 18, ma potranno quindi aprire nella loro giornata, da domenica 13. Insieme a questi dati noi dobbiamo calcolare anche che l'occupazione dei posti letto è diminuita, soltanto oggi per avere un dato importante noi abbiamo avuto un saldo negativo di 108 posti, cioè si sono liberati, nel senso che sono stati dimessi rispetto a quelli che sono entrati come nuove in missione del sistema ospedaliero 108 persone, abbiamo meno 9 occupazioni di terapia intensiva, ecco tutti questi dati ci fanno capire come anche la pressione sugli ospedali che è l'altro secondo riferimento, parametro che noi dobbiamo avere insieme all'RT ci dice che stiamo in una fase di miglioramento. Ebbene questo è un dato positivo, ma io come sempre credo che dobbiamo viverlo con grande senso di prudenza, con grande senso di rigore, noi vogliamo che questi numeri continuino così, ma abbiamo imparato che come la linea del contagio scende può anche risalire, così come è avvenuto a settembre, così come è avvenuto a ottobre, così come è avvenuto ai primi giorni del mese di novembre. E non dobbiamo dimenticarci anche un altro aspetto, che il virus continua a circolare in numeri molto elevati, per cui il livello di guardia deve essere altissimo, per cui se da una parte dobbiamo guardare positivamente le attività che possono ritornare ad operare, ritornare a funzionare, dall'altra parte non dobbiamo mai dimenticarci i sacrifici, sacrifici che si stanno ancora facendo per quanto riguarda la libertà personale, pensate alla libertà di circolazione tra le persone, ma pensate anche alla scuola, pensate ancora ai tanti ragazzi che sono in didattica a distanza. E su questo tema io desidero darvi poi un'altra informazione, forse più dettagliata di quella che può essere passata. Venerdì scorso noi siamo diventati zona arancione e avremmo potuto mettere in didattica in presenza la seconda e la terza media, mentre la didattica a distanza per decreto rimane per tutte le scuole superiori. Peraltro il nuovo di PCM ci dice che si tornerà a scuola per le superiori soltanto dal 7 gennaio e con una didattica in presenza al 75%. Venerdì scorso quindi noi avremmo potuto riavere anche seconda e terza media in presenza, noi abbiamo tutte le elementari, prima media in presenza e questa è una battaglia che facciamo perché ci crediamo molto alla necessità della scuola in presenza. Però abbiamo scelto che per la nostra regione fosse più opportuno continuare per ora, per il momento, a garantire la didattica a distanza anche alle scuoli di seconda e terza media. Ne è nato anche un dibattito che ha riguardato qualche città in modo più particolare, in modo più dinamico, ma è un dibattito anche giusto io credo, perché quando si parla della scuola si parla di una cosa seria ed è giusto che ognuno dica la propria opinione. Noi però che valutazione abbiamo fatto? Io che valutazione ho fatto? Ho fatto la valutazione di confrontarmi, di sentire le ragioni della scuola, di questa seconda e terza media che avrebbe potuto tornare in presenza, ma che tenevamo a distanza, in didattica a distanza e poi ho sentito anche le ragioni però del mondo medico, del mondo dei nostri epidemiologi e guardate che tutto il mondo medico, quindi il gruppo degli epidemiologi del nostro dipartimento, il gruppo della task force guidata da Ferruccio Fazio, il dipartimento di prevenzione della nostra regione mi hanno spiegato e mi hanno documentato come il virus circolasse ancora venerdì scorso e circola ancora nella nostra regione in modo importante e per cui una cautela, una precauzione di tenere ancora in didattica a distanza i ragazzi di seconda e terza media sarebbe stata importante, anche perché voleva dire farli tornare a scuola per pochi giorni, solo prima di Natale, con il rischio di far circolare nuovamente il virus tra i ragazzi di seconda e terza media e poi quel virus portarlo durante le vacanze di Natale ai nonni e ai genitori alle feste natalizie che non si potranno fare, ma che in famiglia comunque daranno la possibilità di incontrarsi. Questo rischio era un rischio che io non ho pensato da padre prima di tutto, anche da Presidente della regione, che non era giusto che lo corressero i nostri ragazzi, i nostri insegnanti e che nell'equilibrio tra gli interessi, tra quella didattica a distanza che poteva diventare in presenza e tra la salute, dovesse prevalere la salute e sono anche contento che nei giorni successivi l'ordine dei medici della regione Piemonte si sia espresso all'unanimità dicendo che la regione ha fatto bene, che sarebbe stato un rischio, che era meglio non correre, che era meglio invece lavorare come stiamo facendo per usare queste settimane che ci separano dal Natale e dalla ripresa di gennaio per avere poi un piano trasporti efficace, effettivo, che porti i ragazzi a scuola in sicurezza dal 7 gennaio in avanti in presenza. I numeri che mi hanno dato, io però li voglio condividere, molto brevemente con voi, voi pensate che ci sono alcuni riferimenti, i bambini tra gli 11 e i 13 anni in Piemonte durante questa seconda fase hanno avuto tra di loro una circolazione del virus che era più del doppio dei loro compagni delle scuole elementari, un po' meno dei loro compagni dai 13 ai 18, cioè delle scuole superiori, ma questi numeri, questi diagrammi che ci hanno fornito ci dimostrano proprio che la linea azzurra, poi li condividerò con voi su Facebook, che è quella dei ragazzi 11-13 anni, aveva avuto una crescita grande e che anche la linea gialla, cioè quella delle superiori, l'aveva avuta altrettanto grande e che quella gialla aveva iniziato a deflettere proprio quando era stata introdotta la didattica a distanza. Guardate, scegliere di tenere i bambini in didattica a distanza è anche una scelta di sacrificio, lo dico anche da padre, io ho un bambino che fa, un ragazzino che fa le superiori, che è in didattica a distanza, mia figlia fa prima o meglio in presenza, ma è una scelta che io credo che quando un governatore fa, la fa perché mette sul piatto quelli che sono i beni in gioco e allora se noi dobbiamo tutelare la salute dei nostri bambini, dei nostri insegnanti, ma soprattutto dei nostri nonni, dei nostri anziani che nell'occasione delle feste natalizie avrebbero potuto in qualche modo subire questo aumento della circolazione del virus, io ho creduto e ho ritenuto che fosse una decisione difficile ma che dovesse essere assunta. C'è stato anche un ricorso al TAR su questo tema, il TAR nella giornata di ieri non ha dato la sospensiva, cioè ha ritenuto che non fosse necessario sospendere il provvedimento della mia ordinanza che sospende la scuola in presenza in seconda e terza media, confermando in qualche modo la fondatezza delle motivazioni sanitarie che noi avevamo posto e soprattutto il principio di precauzione, il principio di precauzione che è fondamentale quando dobbiamo salvare la vita delle persone. Ma insieme a questo ragionamento se da una parte io sono lieto che il TAR ci abbia dato ragione, abbia in qualche modo confermato che la regione ha agito nell'interesse della salute dei bambini e delle persone del Piemonte, dall'altra parte però non dobbiamo fermarci neanche un minuto e pensare che dobbiamo preparare e dobbiamo fare di più perché da gennaio si possa avere realmente una ripartenza della scuola in presenza. È il motivo per cui il mio assessore Gabusi con l'assessore Chiorino hanno presentato un piano, un piano dettagliato e specifico che è già stato condiviso col mondo della scuola. Il nuovo DPCM prevede che siano i prefetti ad organizzare i trasporti sui territori perché noi siamo consapevoli che il problema non è nella scuola, il problema è prima e il problema è dopo, però è un problema che fa parte del sistema scuola, così come io non voglio che qualcuno possa confondere l'idea che la DAD non sia una DAD di valore, cioè la DAD è una didattica a distanza, evidentemente ha dei pezzi che le mancano rispetto alla didattica in presenza, manca la fisicità, manca la socialità, ma è didattica a tutti gli effetti, dietro alla DAD c'è il sacrificio, c'è il lavoro dei professori, degli insegnanti che spesso utilizzano mezzi loro perché il Ministero non glieli ha forniti per fare la didattica ai nostri figli e quindi con grande gratitudine verso tutto il corpo insegnante, verso la scuola che si è adeguata a questa necessità, dobbiamo però lavorare per portare i bambini in presenza, li abbiamo difesi in presenza dal primo giorno, elementari e prima media, adesso da gennaio li dovremo portare in sicurezza, in presenza perché la scuola è un pezzo, o anzi credo che sia il pezzo più importante della catena del futuro che lega noi e che lega i nostri figli, l'educazione, la capacità, la crescita equilibrata dei nostri bambini dipende anche dalla possibilità di andare a scuola in presenza. Detto questo e che era un chiarimento che ritenevo necessario, chiudo con un appunto sul nuovo di PCM, vedo che molti mi scrivete, faccio un appunto prima sui vaccini, vaccini influenzali, vaccini influenzali è un tema che sapete molto molto delicato nella nostra regione, noi a maggio abbiamo comprato 1.320.000 dosi di vaccino influenzale, facendo una gara, sottoscrivendo un contratto con una società che si chiama Sanofi che a giugno si è impegnata a consegnarcela, ne abbiamo comprati quasi il doppio rispetto all'anno precedente, nel 2019 sono stati vaccinati per l'influenza in Piemonte circa 700.000 persone, 640.000 sono state le dosi che sono state inoculate dai medici di base alle persone del Piemonte, noi ne abbiamo comprate il doppio, da 640.000, 700.000 fino a 1.320.000, perché volevamo coprire tutta la popolazione da 60 anni in su, da 60 anni in su la popolazione in Piemonte cuba circa 1.400.000 persone, di questi i vaccini che abbiamo comprato e acquistato, a un certo punto, da 20 giorni, la società ha iniziato a avere problemi di consegno. Ebbene, noi lì, l'ho già comunicato in una diretta Facebook, come sapete non solo ci siamo molto arrabbiati, perché non è tollerabile, non stiamo parlando di matite o di piastrelle, stiamo parlando di beni che servono alla salute, di vaccini che servono alla salute delle nostre persone. Allora noi abbiamo attivato tutte le procedure e le perseguiamo fino in fondo di carattere legale perché venga adempiuto questo impegno, cioè ci diano tutte le dosi. Eravamo fermi però a 930.000 dosi, che erano le dosi appunto di vaccino consegnate fino alla settimana scorsa. Io nei giorni scorsi mi sono attivato attraverso l'ambasciata di Francia, Sanofi, come sapete, ha una proprietà che ha una radice forte nella Francia, con i contatti che avevo creato da parlamentare europeo sono riuscito a interessare l'ambasciata d'Italia in Francia, che è a Parigi e che è permesso una serie di incontri, per cui oggi in un incontro ci è stato ufficializzato che la prossima settimana arriveranno altre 100.000 dosi di vaccino nella nostra regione e quindi arriveremo a 1.030.000 dosi di vaccino. L'anno scorso sono stati vaccinati 640.000 persone, oggi noi arriviamo a 1.030.000 dosi. Ma non ci fermiamo, non ci fermiamo perché il contratto dice 1.320.000 e noi ci fermeremo quando arriveranno tutte, 1.320.000 dosi per riuscire a vaccinare tutte le persone che hanno più di 60 anni in Piemonte e che hanno determinate patologie. Chiudo su un tema importantissimo, nuovo di PCM. Di nuovo di PCM parleremo, parleremo tanto nei giorni a venire, perché il nuovo di PCM prevede tutta una serie di norme dal 21 di dicembre in avanti, ma soprattutto prevede anche dei limiti di spostamento sulle quali io ho manifestato, proprio nella riunione col Presidente Conte e nelle ore precedenti con gli altri Presidenti, alcune perplessità. Perché questo di PCM evidentemente è stato scritto, non devo dondolare, scusa Irma, mi devo fermare, questo di PCM, grazie, è stato scritto evidentemente da chi vive in città. Questo di PCM è stato scritto da qualcuno che viva Roma, da qualcuno che vive in una grande città e che non sa che la nostra Italia è fatta anche di tanti piccoli comuni. Il Piemonte è fatto di oltre 1200 comuni e chiudere un comune nei giorni di 25 dicembre, 26 dicembre, 1 gennaio, così come prevede il PCM, destano oltre perplessità, perché può trovare poi delle storture di attuazione che noi abbiamo voluto trasmettere al Presidente. Innanzitutto ci sono anche questioni soprattutto di carattere umano, di sensibilità umana, perché tra piccoli comuni l'impossibilità di spostarsi rischia di far venire meno quel ricongiungimento familiare che a volte fa parte della componente salute. Questa è la cosa che ho voluto segnalare al Ministro Boccia, alla conferenza delle regioni. Noi dobbiamo riuscire a fare in modo che se ci sono determinati ricongiungimenti familiari che se noi non permettessimo creerebbero dei problemi di salute, anche di equilibrio mentale, di equilibrio psicofisico alle persone, soprattutto alle persone fragili, quello è un motivo di salute che deve permettere ricongiungimento. Lo abbiamo segnalato dal Presidente del Consiglio Conte, il Presidente del Consiglio ha dichiarato di condividere questa problematica e che ci verranno date delle FAQ, sapete queste risposte ufficiali date dal Ministero, che potranno in qualche modo permettere questi ricongiungimenti tra congiunti, perché questo è l'aspetto principale, senza contare anche all'aspetto legato magari alla difficoltà per un'attività di ristorazione, voi pensate un piccolo comune dove c'è un ristorante che possa sia aprire il giorno di Natale, ma solo riservato a quelli che sono i residenti del comune. Ecco, queste strutture rischiano di esserci e io credo che vadano spiegate, io ho trovato la disponibilità all'ascolto, mi auguro che da questo possa discendere anche la soluzione di questo problema. Siamo nella fase in cui non dobbiamo fare le polemiche, dobbiamo trovare le soluzioni e allora io credo che una soluzione corretta sia quella che quando ci sono delle persone, delle persone soprattutto anziane, delle persone sole, per cui il non ricongiungersi il giorno di Natale potrebbe creare un problema di salute, di salute e di benessere psicofisico della persona, io credo che in quel momento allora la concezione di spostarsi per motivo di salute debba poter essere presa in considerazione e quindi valere. Attendiamo su questo che il governo ci dica e ci dia delle risposte, le otterremo e quando le otterremo naturalmente io ve le comunicherò e come vi comunicherò tutto il tema del ristoro degli impianti di sci. Il governo ha deciso che gli impianti di sci non aprano, l'Europa ha tenuto una linea che se verrà confermata quantomeno ci permette di non avere delle disparità, la Francia chiuderà come l'Italia, come l'Austria, come la Slovenia, come la Germania, la cosa però che noi dobbiamo riuscire ad avere garantita sono i ristori, ristori da parte dello Stato perché dietro a quelle attività economiche ci sono tanti posti di lavoro e se è giusto che la salute venga prima, lo diciamo sempre, dall'altra parte dobbiamo però permettere che non ci sia la grande conseguenza di una difficoltà economica da cui uno non possa riprendersi. Allora i ristori economici al mondo della montagna ci vanno, noi faremo la nostra parte anche come regione perché entro la prossima settimana noi presenteremo un piano di sostegno alle professioni dello sci e al mondo della montagna in grado di aiutare a superare questi 15 giorni in cui gli impianti sciistici saranno chiusi. Ve lo presenteremo nel dettaglio e vi aggiorneremo e vi aggiornerò personalmente passo per passo. Quindi concludo, oggi è una giornata buona, dati buoni ma tutto dipende dal nostro comportamento. Il dovere non è solo uscire dalla zona arancione e diventare gialli, cosa che diventeremo il 13 di dicembre ma il problema sarà rimanerci e non solo rimanerci a dicembre, rimanerci a gennaio, rimanerci a febbraio. Non possiamo permetterci quello che è accaduto questa estate, ce lo diciamo ma dobbiamo ridircelo sempre, prudenza è fondamentale e dall'altra parte ripartenza per permettere sì di ripartire in sicurezza insieme perché solo insieme noi possiamo uscire in fretta e provare a vedere un 2021 che davvero possa essere un anno di ripresa e un anno in qualche caso anche di rinascita. Grazie e buona serata.